Riapre in piena sicurezza con nuovi orari e nuove regole il complesso abbaziale di Monreale, un viaggio nella Sicilia arabo-normanna che parte dal Duomo con il Cristo Pantocratore e passando dall'elegante Cappella Ruano, dal Chiostro, dalle terrazze da dove si può ammirare l'intera vallata, arriva fino al Museo Diocesano. In una prima fase il complesso monumentale riaprirà quattro giorni a settimana giovedì e venerdì dalle 9 alle 13, sabato anche dalle 14.30 alle 17.30 domenica solo pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00. Il Chiostro è aperto anche la mattina dalle 9 alle 13.30. Messo a punto un percorso di visita ben definito che evita ogni assembramento e differenze entrata ed uscita. Si entra dal portico laterale settentrionale, si esce dalla porta delle tombe reali. Previsti ingressi contingentati non potranno essere presenti nel complesso più di 120 persone per volta. All'ingresso igienizzazione delle mani per i visitatori che dovranno indossare la mascherina per l'intera visita. In funzione è anche un sistema di prenotazione a slot che suddivide i posti disponibili per fasce orarie. Il biglietto sarà open, ovvero sempre valido per un ingresso, ma non avrà scadenza e si potrà decidere l'orario della visita in base alla disponibilità degli slot.